Musica Martedì 16 luglio, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TRG. Molte notizie oggi in primo piano, ancora con Corzopoli, vedremo che prosegue infatti l'inchiesta che ha riguardato la sanità in Umbria, ma si parla di Umbria Jazz, del grande successo di Umbria Jazz, delle serate che proseguono fino a domenica con il pieno di pubblico e poi la cronaca con un brutto incidente stradale che a Todi ha costato la vita ad un uomo che stava attraversando la superstrada. E poi molte altre notizie dai singoli territori, in particolare vedremo da Foligno una polemica che contrappone comune con regione sulla piastra logistica, ma anche una bella storia che vi andremo a raccontare tra poco che arriva da Montefalco. Le prime pagine dei quotidiani. Il Corriere dell'Umbria titola proprio sull'inchiesta Sanitopoli rito immediato per due primari. La Cassazione rigetta intanto il ricorso di Giampiero Bocci che chiede la revoca dei domiciliari, mentre ci si prepara a richiedere per due primari coinvolti nella inchiesta, in particolare per un presunto concorso truccato di maxillo facciale, un rito immediato. Ieri il PD ha fatto il punto della situazione in vista delle elezioni regionali. L'appuntamento ieri era al Parcotelle di Ponte San Giovanni, dove è arrivato anche il vice segretario del PD nazionale Andrea Orlando, che ha provato a risvegliare il PD Umbro. Che cosa ha detto Orlando? Noi ci siamo inseriti nelle vicende regionali Umbro, dove il noi ovviamente è il PD nazionale, non per volontà ma perché i suoi vertici sono stati decapitati. E ha detto Orlando, prima di porci il problema di come rappresentare il popolo, ci dobbiamo porre il problema di come ricostruire il nostro popolo. L'altra notizia di cronaca arriva dal Ternano, vi abbiamo raccontato ieri di questo presunto stupro che si sarebbe consumato nel weekend. Non l'ho violentata, era consenziente. Parla il barista che è stato a Terni arrestato per il presunto stupro di una ventenne dopo la serata in discoteca. Lui nega tutto e dice che sì, sesso è stato fatto, ma di fatto era consenziente. E poi andiamo a parlare di cultura, Festival Federico Cesi, sono stati presentati eventi di grande musica. La Nazione titola, sull'altra notizia che anche noi vi abbiamo riportato nel Tg di ieri, i nuovi poveri. Ieri infatti l'Agenzia Umbra Ricerca ha presentato il rapporto sulla povertà. Sono 50.000 le famiglie umbre che si trovano in una situazione di povertà. Sono sempre più i giovani quelli che si trovano in difficoltà, a dispetto degli oltre 65 anni che invece vivono una situazione economicamente più agiata. E poi il fatto di cronaca che a Todi è costato la vita ad un uomo a piedi sulla E45. È stato travolto ed ucciso un Tuderte di 53 anni. E ancora a Terni, come abbiamo letto, accusato di stupro, il barista si difende, è stato un rapporto consenziente. A Foligno c'è guerra tra regione e comune sulla piastra logistica. E poi Umbria Jets, via la plastica da Umbria Jets, svolta Green per salvare il pianeta. Il messaggero apre con Concorsopoli, tre medici subito a processo. La procura chiede il giudizio immediato per fare burle, Lenti e Antonio Tullio. Nel mirino la selezione in chirurgia maxillofacciale. Sono coinvolti anche gli ex manager Duca e Valorosi. A Terni, droga lente sui clienti, a centinaia nel negozio che vendeva dosi di droga. Quindi si cerca di capire anche chi fossero questi clienti. E poi ad Umbria Jets, note e riti, tutto quanto fa Jets. Un sorriso virtuoso, intanto stasera torna a Corea. Il PD vuole fare la pace. Ieri abbiamo visto, si sono incontrati a Ponte San Giovanni, ma non a finti civici, questo è stato detto. Il rapporto sulla povertà che è stato presentato dall'Agenzia Umbra Ricerca. I giovani Umbri sono sempre più poveri. E poi la cronaca a Todi, a piedi lungo lei, 45 travolte d'Ucciso. A Perugia, Valzer di Presidi, a partire da settembre. Questo per le prime pagine dei quotidiani. L'home page del nostro sito internet www.trgmedia.it ci porta proprio a parlare del rapporto sulla povertà in Umbria. Poi qualche dettaglio lo leggeremo nei quotidiani. Ieri sera ve lo abbiamo raccontato nel nostro telegiornale. Sono sempre più i giovani e anche i bambini i più colpiti dalla povertà. E soprattutto ciò che è inquietante è che si è completamente bloccato l'ascensore sociale. Che cosa vuol dire? Che se si nasce in una famiglia povera, si resta sostanzialmente poveri. Per un povero ci vogliono almeno cinque generazioni in media per il proprio riscatto sociale. Quindi decisamente un ritratto impietoso. Andiamo ad approfondire le notizie regionali, ma quest'oggi iniziamo da una bella notizia. Vi raccontiamo sempre di fatti e misfatti, molte volte misfatti più che fatti positivi. Ed oggi invece iniziamo da questa bella storia che arriva da Montefalco e che viene riportata sul quotidiano nazionale della nazione. Addio tumore, grazie popolo del web. Vi abbiamo più volte raccontato di questa mamma di Montefalco, si chiama Pamela Angelelli. Ha 37 anni, quando era incinta del proprio bambino a sei mesi, ha scoperto di avere un terribile tumore. Esattamente un linfoma primitivo del mediastino, non Hodgkin, di tipo però aggressivo. La diagnosi per lei era durissima. Questa mamma ha deciso di portare avanti la gravidanza. È nato il bambino, ma ovviamente per lei c'era la necessità della cura. Non aveva soldi, aveva quantomeno non sufficienti per curarsi. E allora è iniziato un vero e proprio tam tam sul web per racimolare soldi che le consentissero di essere operata all'estero. Ebbene, proprio grazie ad una solidarietà straordinaria, questa signora è riuscita a raccogliere 350 mila euro. Amici, ma anche artisti, cantanti, assoluti sconosciuti hanno donato soldi. Si è operata ora a Tel Aviv e ieri ha annunciato con un post su Facebook Addio Tumore, grazie al popolo del web. Già perché secondo i medici il suo tumore, grazie alla cura che le è stata praticata, è sostanzialmente guarito, è recesso. Nel dettaglio che cosa le è stato fatto? Alcune cellule del sistema immunitario sono state prelevate dalla paziente, geneticamente modificate in laboratorio per poter riconoscere le cellule tumorali e poi reinserite nello stesso paziente per poi di fatto combattere il tumore. Questa pratica ha avuto successo, la signora ha annunciato la guarigione. Allora, è una bella vittoria certamente per la signora, ma una bella vittoria per tutti coloro e sono tanti davvero in Umbria che si sono mobilitati per consentirle di realizzare questo miracolo scientifico. Allora, era una bella storia e quindi ve l'abbiamo raccontata in apertura. Andiamo a storie, come dire, un po' meno belle, ma che comunque sia fanno parte della cronaca quotidiana. Partiamo dal Corriere dell'Umbria e dalle sue pagine regionali. Per parlare purtroppo di Castelluccio, in realtà delle persone che ancora vivono la condizione del post-terremoto in Valnerina. Casette senza lacce e pavimenti. Martedì scorso c'è stata la consegna delle chiavi a Castelluccio, ma le otto famiglie destinatarie della SAE non possono ancora usare queste abitazioni. E poi, con Corsopoli, giudizio immediato per i primari. La Procura sta valutando di saltare l'udienza preliminare per quegli indagati, e sono primari, che avrebbero manipolato il concorso di Maxillo Facciale. Intanto la Cassazione rigette il ricorso di Giampiero Bocci, che chiedeva la revoca dei domiciliari. Ancora, parliamo di politica, perché ieri, come dicevamo a Ponte San Giovanni, il PD si è riunito con i vertici nazionali per fare il punto della situazione in vista delle elezioni regionali. Ha parlato il vicepresidente Orlando, abbiamo fatto, dice, un importante passo in avanti per ricostruire il PD Umbro. E Verini, commissario straordinario, cosa ha detto? La destra è divisa, farà danni anche in Umbria. Forza, tornate a bordo. Ma ieri è stato presentato questo rapporto, come dicevamo, dell'Aure, l'Agenzia Umbra Ricerche, sulla povertà, che di fatto ha sancito che la regione Umbria è la regione più povera del centro-nord, e la povertà, come titola il Corriere dell'Umbria, travolge i giovani. L'incidenza, infatti, della povertà è più forte sui giovani che sugli anziani, che tutto sommato hanno delle rendite di posizione, in qualche modo, sulle quali possono contare. I ragazzi oggi in Umbria guadagnano meno del 25% degli anziani. Vent'anni fa potevano contare addirittura su un 10% in più rispetto ad un reddito degli anziani. Ma ciò che è anche inquietante è la povertà che travolge i bambini, perché famiglie povere con bambini a carico non riescono, in qualche modo, a garantire una qualità educativa ai bambini stessi. Emerge, infatti, dal rapporto che c'è una povertà educativa, ovvero una difficoltà da parte di tanti bambini ad accedere a servizi, e anche a situazioni, a condizioni extrascolastiche, che possono, in qualche modo, essere edificanti. Ci sono le percentuali, anche altissime, dei tanti bambini che non possono accedere allo sport, a un cinema, ad un museo, ad un concerto. E quindi una povertà educativa che, ovviamente, va a peggiorare la loro condizione. E poi, l'altro argomento del quale si occupa il Corriere dell'Umbria, tagli ai bus. Feder Consumatori chiede il rimborso degli abbonamenti. C'è stata ieri una riunione a Lanci con i parlamentari umbri per scongiurare che il taglio dei bus si rifletta con una grave carenza di servizi nei confronti, in particolare, dei tanti pendolari. Andiamo alla Nazione con le sue pagine di interesse regionale. E allora si parte proprio dal rapporto sulla povertà. Povere famiglie, nemmeno uno stipendio basta più a salvarsi. Delle 50 mila famiglie di poveri che l'Umbria conta, molte in realtà hanno un lavoro. Cioè, c'è almeno una persona in famiglia che ha un lavoro. Ma un lavoro non basta per sostenere le esigenze della famiglia, perché il reddito è eccessivamente basso e dunque si è costantemente in emergenza. C'è crisi e anche la coppia scoppia. In occasione di questa presentazione del rapporto, Monsignor Rocchetta ha raccontato delle tante difficoltà che vengono affrontate dalle coppie, dove la difficoltà economica molte volte è anche uno dei motivi delle tante divisioni. E questo titolo racconta in qualche modo quello che vi abbiamo detto, minori predestinati. Cioè, quello che è più inquietante, almeno dal nostro punto di vista, in questo rapporto è il fatto che non ci sia la possibilità per tanti minori di potersi riscattare dalla propria condizione sociale. Proviamo a volgarizzare, nasci povero, resti povero. Si è stimato che ci vogliono almeno cinque generazioni per potersi riscattare da questa condizione. Qualcosa che ovviamente in una società civile è inaccettabile. Andiamo a Terni per parlare di cronaca, perché è di questi giorni la notizia del barista diciottenne che è stato accusato ed incarcerato di aver violentato una ragazza ventenne dopo una sera in discoteca. L'uomo ha detto, è stato un rapporto consenziente e ci siamo piaciuti e poi abbiamo fatto sesso, non ha assolutamente, secondo la sua versione dei fatti, abusato della ragazza. E poi l'altra notizia di cronaca che arriva da Todi, un uomo di 53 anni attraversava nella notte la E45 ed è stato falciato, letteralmente morto sul colpo. Chi lo ha visto ha detto si è lanciato contro un'auto. Gli addetti del 118 hanno potuto solo costatare il decesso. E poi questi sono i giorni in cui Umbria Jets si presenta in tutto il suo splendore. Abbiamo visto, c'è stato il concerto di Paolo Conte, ma le serate proseguiranno fino a domenica e c'è un annuncio. Umbria Jets da adesso in poi, quindi anche per le prossime edizioni, avrà una svolta green, ovvero un plastic free proprio per salvare il pianeta. E ci sarà proprio un appello per la difesa dell'ambiente che sarà lanciato dal palco dell'Arena di Santa Giuliana prima del concerto di Tom York il prossimo 20 luglio. L'appello lo farà Padre Enzo Fortunato della Basilica di Assisi e un rappresentante di Greenpeace. Intanto stasera Kikorea svela la sua anima latina e torna sul palcoscenico del Santa Giuliana. Questo per la nazione. Andiamo al messaggero che abbiamo visto essere sempre particolarmente attento sulla vicenda di Concorzopoli, ma che vedremo, insomma, affronta anche altri argomenti. Su Concorzopoli titola subito il processo per tre medici. La procura che chiede il giudizio immediato per tre primari che avrebbero, come dire, truccato, ma ovviamente da dimostrare, il concorso di maxillo facciale. E poi, ancora dal messaggero, l'attenzione è sul PD che ieri ha tenuto questo incontro a Ponte San Giovanni. Il PD prova a far la pace, ma no a finti civici. L'Assemblea di Ponte San Giovanni traccia la linea per le regionali, ripartire dai valori dem e basta divisioni. Questo è stato il diktat. L'altro argomento l'abbiamo visto del giorno, sulla E45 a Todi, tra volte ucciso a San Damiano, muore nella notte un operaio di 53 anni. Questo per le pagine di interesse regionale. Scendiamo nel dettaglio delle pagine locali, ripartendo dal Corriere dell'Umbria, che dedica ad Umbria Jets un grande spazio. Due pagine. Umbria Jets, teatri e galleria fanno il pieno. Tanti fedelissimi da Benson. C'è stato infatti ieri un ispirato, George Benson, che ha scaldato la folla. Protagonista intanto questa sera a Kikorea, l'artista di culto, suonerà con l'ottetto The Spanish Earth Band. Ancora la cronaca paga, ma l'auto che ha comprato non arriva. Un perugino è stato truffato da una donna a Brescia che presi 12 mila euro ha finto un incidente ed è letteralmente sparita. Ancora da Perugia, automobilisti prigionieri del pilomat bloccato alla fine di Via Marzia. E poi, l'università, sono state rinviate le nuove nomine, posticipata a settembre la discussione su 49 promozioni. Ancora dai territori, ci spostiamo ad Assisi, piazza del comune chiusa, proteste, la Lega manifesta, mentre la Giunta difende le proprie scelte. Il sindaco Proietti dice «Non pensiamo ad una città come un museo a cielo aperto». Intanto i costumi del Calendimaggio, da fine mese, saranno esposti a Santa Maria degli Angeli. Ancora dal Corriere dell'Umbria, ci spostiamo a Magione. Proloquo e Palio, con Nubio Vincente, il nuovo direttivo del Palio del Gioco, presenta tanti giovani ed è guidato dal 23enne Andrea Biagini. A Passignano, Goletta dei Laghi, al via il campionamento delle acque, torna alla campagna di Lega Ambiente, che illustrerà lunedì prossimo il risultato della qualità dell'acqua. Pedone travolto ucciso sulla E45, l'abbiamo visto, è accaduto a Todi. E poi, sempre da Todi, una proposta, la consolazione, ovvero il Tempio della Consolazione, lo vedete in foto, deve diventare patrimonio mondiale. Unesco. Andiamo a Città di Castello e 45, sei mesi fa la chiusura del viadotto del Puleto, la parziale riapertura al traffico pesante nelle ultime settimane non son disfa, né sindacati, né confindustria. È Giorgio Ceccarelli, il nuovo presidente del Rotary e poi la lettera scritta dalle clarisse cappuccine di Città di Castello che hanno scritto a Mattarella e Conte perché sono preoccupate per i fenomeni di intolleranza nei confronti di rifugiati. Loggiato Bufalini, sono finiti i primi lavori, entro luglio arriverà anche l'ascensore e poi a Dumbertide. Tre palchi in città per Roc in Umbria si aziviscono 19 gruppi. Andiamo a Gubbio dove il Vescovo si prepara a varare una riorganizzazione delle parrocchie. soltanto 30 sacerdoti per un territorio molto vasto, molti di loro hanno più di 70 anni di età. Intanto alla Basilica di Sant'Ubaldo si sta cercando di far tornare delle comunità di francescani o lateranensi e poi la città in lutto per la scomparsa di Elio Cerbella. Era ceramista e docente. Andiamo a Gualdotadino, quattro colpi in abitazioni nello scorso fine settimana. I quartieri sono Cerqueto e Cartiere Caselle. Altrettanti sono stati messi sono andati a vuoto per la presenza dei proprietari. Oggi il Corriere pubblica la lettera del sindaco Massimiliano Presciutti che ha scritto al presidente della comunanza agraria Pennino Gualdese per invitarla al tavolo congiunto di lunedì prossimo e poi a Nocera Umbra passeggiata la scoperta dei luoghi francescani giornata dedicata ai siti di Colle dei Frati Chiesa di Santa Chiara Museo Civico. A Foligno Stolking oltre 60 casi in un anno aumentano le donne maltrattate tante le richieste allo sportello di via Umberto I e l'abbiamo già letto da Montefalco migliorano le condizioni di questa mamma Coraggio che era malata di tumore. A Prato Smeraldo torniamo a Foligno furto in casa spariscono Bracciale e Cornici d'Oro a Palazzo Trinci l'appuntamento è per venerdì prossimo dalle 9 alle 23 ci sarà una visita in notturna del palazzo in occasione del cinquantennale dall'allunaggio. Parliamo di Giostre Giostre della Quintana ad Ascoli infatti vince Innocenzi la legge del più forte vince la Quintana di Ascoli con il record di pista Bene Zannori che finisce alle sue spalle delude l'altro Folignate Gubbini A Spoleto il dopo festival parte dal recupero di spazi cittadini il sindaco fa la mappa delle priorità a settembre via ai lavori all'anfiteatro e al San Simone spinta anche per il restauro di San Gregorio Minore e il giudizio di Conf Commercio sul Festival dei Due Mondi è molto bene ma si può fare di più bisogna coinvolgere dice il presidente Barba Nera anche altre zone del centro e poi andiamo a parlare di Terni l'abbiamo letto in qualche modo già nelle cronache regionali parla il barista egiziano di 18 anni che è stato accusato di aver stuprato una ragazza ventenne dopo la discoteca ci siamo piaciuti abbiamo fatto sesso era consenziente questo era il Corriere dell'Umbria andiamo alla Nazione per le sue pagine locali in particolare ripartiamo dai singoli territori e allora da Perugia parla il neoassessore alla cultura Barasano la cultura va portata anche nelle periferie la mia caratteristica sarà l'inclusione e poi ancora dalla Nazione a Magione è stata presentata la congiura al castello un appuntamento teatrale che sarà in scena fino al 26 luglio la storia da spettacolo e poi ad Assisi traffico calano auto e multe i numeri del comune ma la Lega contesta abbiamo visto la chiusura della piazza intanto è stato un bel successo ad Assisi il Bike Festival e poi a Bastia Umbra picnic fortunato ludoteca bagnata il maltempo non ha frenato l'allegria delle iniziative estive della ludoteca oggi intanto c'è il primo consiglio comunale della nuova consigliatura di Bastia a Gubbio il bottaccione ha il mal di gola la vegetazione spontanea la fada padrona servono interventi a Gubbio la città il lutto l'abbiamo visto per la morte di Elio Cerbella a Gualdo Tadino la comunanza agraria ha detto non saremo all'incontro di lunedì prossimo il tavolo cosiddetto istituzionale sulla vicenda Rocchetta andiamo a Città di Castello le baby atlete pensano in grande Veronica e Giulia giovanissime già in vetta ai campionati italiani ciclismo ginnastica e ballo sono questi gli sport dove delle ragazze tifernati sono diventate campionesse Umberti del comune riduce la taria alle imprese solidali ovvero a quelle che doneranno prodotti alimentari e farmaceutici agli indigenti a Città di Castello loggiato Gildoni entrano in furzione le porta a vetro e poi andiamo a Foligno dove litigano tra di loro regione e comune in particolare l'assessore regionale Chianella risponde al primo cittadino Zuccarini ormai Foligno è diventata di centrodestra che ha detto che la piastra logistica si farà solo grazie all'interessamento del deputato leghista Caparvi che in qualche modo riuscirà a salvare le risorse destinate a questa piastra Chianella non ci sta e ovviamente rivendica il ruolo della regione Quintana di Ascoli l'abbiamo visto Etnocenzi che è tornato a vincere e poi Spoleto il nuovo blitz dei vandali alla scuola a Lighieri a Montefalco anche Doc Spoleto nel consorzio dei vini e per il Festi c'è stata una raffica di multe durante i fuochi a Terni Eschigel sit-in dei lavoratori in prefettura gli stagionali di questa azienda chiedono continuità occupazionale c'è anche una interrogazione parlamentare chiudiamo con le notizie di cronaca dal messaggero in particolare da Perugia taglia i bus c'è un esposto ricorsi per gli abbonati parla Petruzzi di Feder Consumatori i rimborsi agli abbonati dei bus sono dovuti centinaia di utenti si trovano infatti in difficoltà a Perugia ci sarà da settembre un vero e proprio valser dei presidi Materia va al Bruno Volpi lascia la Lessi Falaschi va alla Pascoli abbiamo già l'ampiamente letto di Concorzopoli ci spostiamo nei territori Gubbio al processo Goracci parla ancora Silvestri e poi a Sisi con l'assetto della nuova viabilità ci sono state meno multe e meno auto in centro a Città di Castello i lavori al loggiato Gildoni sempre dal messaggero ci spostiamo rapidamente nel territorio di Foligno l'abbiamo già letto dall'apertura della nostra rassegna stampa la storia da Montefalco di questa mamma Pamela che ha visto la remissione totale del suo tumore grazie ad una cura sperimentale a Tel Aviv e poi Innocenzi re della Quintana di Ascoli vittoria numero 13 e record di pista il consorzio vini di Montefalco tutela anche la doc di Spoleto e a Spoleto il presidente di Confcommercio Barbanera Festival dei Due Mondi più lungo di un weekend questa è la proposta per il prossimo anno e poi c'è questa notizia che va assolutamente sottolineata formiche nel pane questo hanno trovato in asse in un supermercato di Spoleto ancora dal messaggero le ultime pagine sono dedicate a Terni le troviamo eccole qua le troviamo per le pagine di cronaca centinaia di Ternani in fila per comprare fiumi di coca il negozio di Broccucci viene preso d'assalto per comprare droga questo emerge dalle indagini il titolare si sfoga con il suo complice e dice stanno tutti lì e sperano che arrivi tu le intercettazioni hanno portato all'individuazione di questo mercato clandestino bene questo per la cronaca e l'attualità ci fermiamo e poi lo sport e poi lo sport